Monsignor Claudio Palumbo, il Vescovo e il Pastore della Diocesi è una visione più ampia delle sfide spirituali e pastorali che la comunità cattolica affronta. Come affronterete la Pasqua nella Diocesi di Trivento? Ma l'affronteremo innanzitutto con il desiderio grande di un passo in più nella vita della fede, di una maggiore adessione a Cristo Signore che muore, risorge per la nostra salvezza. Quindi questo desiderio grande e comune che condividiamo con sacerdoti e fedeli laici naturalmente. E i canali per questo, poi, che sono a nostra disposizione, sono naturalmente i canali della grazia, quindi i sacramenti e specialmente il momento forte della veglia pasquale dove noi riviviamo con la parola di Dio il passaggio dalla morte alla vita, il nostro battesimo. E in tante comunità, proprio nella notte, nella veglia pasquale, ci sono celebrazioni dei battesimi o di piccoli o di adulti. Però sono le funzioni del Trito Sacro, in maniera particolare, quelle che ci stringono in maniera speciale al Signore, alla Chiesa, ai fratelli. Giovedì, santo mattina, come in tutte le cattedrali del mondo, la Messa degli Olisanti, il Vescovo, con i sacerdoti, ecco, rivive l'istituzione del sacerdozio. E i sacerdoti per noi sono necessari, come il pane. Senza i sacerdoti non avremmo la celebrazione dei sacramenti, almeno in questo ordine, così costituiamo. Poi c'è il Venerdì Santo, un giorno molto sentito, dove la pietà popolare torna a rivivere con quelle vibrazioni di affetto, di devozione, verso questo mistero di amore di Dio che, ripeto, muore in croce per la nostra salvezza. A che ora celebra la Messa Pasqua? La Messa Pasquale, quella della veglia, sabato santo notte, per intenderci, sarà alle 10.30 e all'indomani, invece, il giorno di Pasqua, alle ore 11 nella cattedrale. Grazie. 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 Grazie.